Da ieri vivo un amore impossibile per un uomo che è morto quando avevo dieci anni. Lui è Giancarlo Fusco e il libro che mi ha perdutamente fatto innamorare di lui è l'Italia al dente. Una serie di aneddoti, racconti, narrati con un gran grazia, con un brio, che ricordano e superano il camilleri memorialista. Quindi con quel tono sorgnone, compiaciuto di sapere le vettegolezzi e felice di raccontarli a tutti. E l'ambiente è quello dell'Italia fascista e appena post fascista, che viene raccontata nei suoi fasti, ma soprattutto nei suoi fasti, da uomini e non da condottieri. Per esempio si racconta il momento in cui Eleselassie, non ancora Negus, arriva alla Spezia e viene ospietato. Per l'occasione gli si prepara un piatto eccezionale, le trenette con i datterini, che sono dei frutti di mari particolari, che sono particolarmente copiosi e saporiti in quella parte d'Italia. Eleselassie li guarda con le mani, mette le mani nelle trenette, assaggia questi datterini, li trova buonissimi e invita a fare altrettanto tutto il suo equipaggio. Insomma, di fronte agli italiani raccapricciati, si vedono tutta questa confederazione etiopica, che arriva, prende soltanto i pesci, li mangia, lasciando un disastro di trenette spezzate e sporche e ormai senza più neanche un po' di condimento. Un'altra storia divertente che racconta, ma fra le tante che ce ne sono, succede in Albania, dove, e che è conquistata il venerdì santo, viene subito fascistizzata, piacentinizzata, secondo il metodo fascista, secondo il modello architettonico fascista, e affidata a un logotenente, il quale ha una moglie bellissima, di cui il giornalista Hans Maltese è fullemente innamorato, non ricambiato, perché la bella donna condivide un lavoro all'olterino con Galeazzo Ciano. E siccome Ciano è talmente geloso che umilia Maltese, anche incolpevole, Maltese si vendica così con un piatto di bucatini alla matriciana, ma non particolari, li presenta come speciali bucatini alla matriciana con l'eco, perché, a suo dire, il terribile brigante Tartefa, che infestava nella zona del Terminillo, era solito offrirli ai suoi ospiti, previa, la recitazione di qualche verso da parte sua, al quale tutti gli ospiti dovevano rispondere, facendo eco alle ultime fillabe. Solo dopo, al grido, a matricianatevi, si poteva cominciare a mangiare. Sembra un gioco di società. E così è, infatti, perché subito Maltese comincia a declamare Questo è il vero bucatino matriciano! E tutti, Ciano! Che inventò il brigante Tartefa! E tutti ridendo, Tefa! Traolulati e salti di stambecco, Becco! Il luogotenente, grottando le ciglia, dice ma non ha senso quello che dice! E Maltese non è questione di senso, è questioni di sensi. E questo libro, L'Italia al dente, titilla davvero tutti i sensi.